Volontariato, aiuto nei momenti di bisogno, tutela della memoria, valori cari alle penne nere che si sono riunite questo fine settimana a Monteberico per celebrare i 60 anni dalla fondazione del gruppo Alpini di Monteberico e 70 dall'inaugurazione del monumento alle 8 aquile che svetta sulla collina di fronte al santuario. Una a due giorni di celebrazioni per entrambi gli anniversari, partita con una serata in ricordo di Alberto Piero Pan, capogruppo di Monteberico, scomparso un anno fa. Poi una conferenza dedicata allo scultore Giuseppe Zanetti, alpino decorato al valor militare che realizzò il monumento alle 8 aquile. 8 aquile che simboleggiano i battaglioni, Vicenza, Bassano, Sette Comuni, Valleogra, Valbrenta, Monteberico e Monte Pasubio e il secondo reggimento di artiglieria da montagna. Celebrazioni culminate con il momento in cui gli alpini Monteberico, di cui si contano 92 penne nere e 25 aggregati, si sono spostati al monumento dove il capogruppo Roberto Tovo, alla presenza delle autorità, ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto e dei valori alpini di pace e solidarietà simboleggiati dal monumento delle 8 aquile. Cerimonia che ha rappresentato una tappa ulteriore di avvicinamento alla Dunata 2024, accompagnata dal coro Amici Alpini di Montegalda e Lumignano, che ha animato la messa solenne nel santuario a conclusione della cerimonia.